Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video, oggi facciamo un make up tutorial un pochino più divertente del solito celebriamo il fatto che l'Italia sia arrivata in finale agli europei di calcio, domenica c'è la finale e ho pensato che magari qualcuno di voi volesse provare a replicare un trucco ispirato alla bandiera italiana anche se non guardate gli europei potrebbe comunque essere qualcosa di divertente da provare, non lo so magari può esservi utile in qualche altra occasione in questo make up tutorial vi farò vedere soltanto come realizzare gli occhi e le labbra sentitevi liberi di fare la base che più preferite o di modificare questo trucco in base alle vostre esigenze se magari lo volete un pochino più leggero, se volete caricarlo ancora di più senza blaterare troppo, forza Italia e iniziamo questo make up tutorial iniziamo con un colore molto simile al colore della nostra pelle o al massimo leggermente più chiaro mi raccomando che sia opaco e andiamolo a pressare su tutta la zona sotto al sopracciglio questo ci aiuterà semplicemente con la sfumatura di ombretti così colorati che andremo ad utilizzare tra poco passiamo al colore centrale della nostra bandiera che è un bianco vedrete utilizzare tante palette diverse semplicemente perché devo andare a pescare il colore giusto voi sentitevi liberi di utilizzare quello che avete sotto mano vi vado a prendere questo ombretto qui che appunto è un super bianco e con un pennello mi aiuto a pressarlo al centro della palpebra voglio che questa zona sia il più bianca possibile e questo ombretto fa un ottimo lavoro me lo porto dall'attaccatura delle ciglia fino a poco sopra la mia piega dell'occhio e lo vado proprio a pressare in modo che sia il più intenso possibile se preferite o magari il vostro ombretto non risulta così tanto intenso potete utilizzare il polpastrello, prenderlo così e andarlo a pressare con il dito lo stesso ombretto sempre con lo stesso pennello me lo vado a portare anche sulla parte inferiore in realtà questa parte del trucco sarà un pochino più sfumata e leggera rispetto a quello che ci sarà sopra però comunque voglio ribaltare la bandiera anche sulla parte sotto ora ci concentriamo sulla parte iniziale dell'occhio e andiamo ad utilizzare il verde siccome non ho un verde che è proprio uguale a quello della bandiera mi prendo questo verdino chiaro che c'è in questa palette e faccio un mix con questo verde scuro che c'è qui quello che vi dicevo potete usare quello che avete a disposizione se non avete un verde chiaro, un verde scuro e volete scurire l'ombretto basta che lo mischiate con un pizzico di nero al contrario se volete schiarirlo basta mischiarlo con un pizzico di bianco io mischio i due verdi insieme e inizio a pressarli qui sulla parte iniziale dell'occhio come vedete è leggermente più scuro rispetto al verde della bandiera ma veramente non possiamo aspettarci che venga super super preciso perché comunque ricordiamoci che stiamo parlando di ombretti e make up se poi vedete che è troppo scuro potete sempre andarci sopra con il chiaro o viceversa e poi dato che abbiamo già applicato il bianco in questa zona sfumare i due colori insieme sarà molto più semplice perché basterà tirare leggermente il verde verso il bianco e fare dei piccolissimi movimenti a zig zag senza aggiungere altro prodotto sul pennello basta che utilizzate il pennellino scarico di ombretto e tirate leggermente vedete come faccio dei movimenti veramente piccolini il verde verso il bianco se poi notate che coprite troppo il bianco potete sempre tornare indietro con il pennello di prima e andare a ripassare il bianco o a tirare il bianco verso il verde vado a sfumarlo leggerissimamente qui sui bordi perché non voglio che sia troppo preciso e me lo porto leggermente anche sulla parte inferiore sempre sull'angolo interno dell'occhio tocco aggiuntivo che non è assolutamente necessario ma io ci sto e lo faccio mi prendo un verde chiaro luminoso con un altro pennellino piccolo e questo me lo vado a pressare soltanto proprio sull'angolino in questa zona se ci fate caso non so se si vedrà dal video questo verde è leggermente più chiaro rispetto a quello che abbiamo appena applicato ma questo ci aiuterà a creare un punto luce e a creare più tridimensionalità sul trucco se non avete un verde chiaro potete farlo anche con un bianco o con un colore chiaro luminoso o potete appunto decidere di non farlo mi vado leggermente a rintensificare il verde qui proprio sull'angolino più interno perché noto che con tutte le sfumature è andato via quando si gioca con colori così accesi ma soprattutto così distanti perché parliamo di un bianco e comunque di un verde scuro di media intensità sta tutto nell'aggiungere un pochettino sfumare e riaggiungere nuovamente è giunto il momento di applicare il rosso e vado a prendere sempre il rosso da questa palette che è questo centrale questo sarà il momento più difficile per il fatto che avere un rosso in ombretto che sia veramente rosso è molto molto difficile però mi sembra che comunque faccia un buon lavoro questo ombrettino qui generalmente quando poi si sfumano tendono a virare verso il fucsia vediamo cercheremo di fare il nostro meglio inizialmente lo vado a pressare per cercare di renderlo il più intenso possibile lo porto anche sulla parte inferiore come prima cerco di rimanere abbastanza leggera in questa zona e poi piano piano mi sfumo il rosso verso l'esterno cambio pennellino ne utilizzo uno da sfumatura riprendo sempre un pizzico di rosso scarico l'eccesso sulla tavolozza qui che è il dorso della mia mano e piano piano mi vado a sfumare tutti i bordi fino a che non ottengo l'effetto desiderato mi raccomando ragazzi quando andate a sfumare questo colore fate dei movimenti molto piccoli altrimenti è un attimo che il rosso vi arriva fino al verde e vi copre tutto il bianco cerchiamo veramente di andare piano piano e di essere cauti riprendiamoci un attimo il bianco perché leggermente è stato coperto da tutte le varie sfumature e riandiamolo a pressare al centro dell'occhio e poi o con il dito mi aiuto a trascinare l'ombretto oppure riprendo nuovamente il mio pennellino e mi aiuto a sfumare i due colori insieme adesso momento catartico perché vorrei che questo trucco fosse qualcosina in più voglio aggiungere un ombretto luminoso sempre a base bianca al centro dell'occhio sopra il bianco che ho già messo quindi mi vado a prendere questo magic fix che è una specie di primer che fa incollare i glitter non l'ho neanche mai provato quindi potrebbe uscire un casino me lo vado a prendere leggermente con il dito e lo vado a pressare qui al centro dell'occhio dove ho il mio ombretto bianco poi asciugo velocemente il dito e prendo questo ombrettino che appunto ha tutti dei bellissimi glitterini me lo vado a pressare su tutto il centro dell'occhio faccio la stessa cosa anche sulla parte inferiore solo che qui devo aiutarmi con il pennello perché non ci arrivo soltanto con il dito che è troppo grande vado soltanto al centro dell'occhio prendo un pennellino di quelli da eyeliner che è molto preciso mi vado a pressare l'ombretto luminoso anche qui sulla parte inferiore qui è proprio obbligatorio l'eyeliner perché se non andiamo a definire un po' l'occhio si perde con tutti questi colori e il trucco sembra un po' strano io vado ad utilizzare questo in gel me lo prendo con la punta di una matita e me lo vado a mettere all'interno dell'occhio proprio come se fosse una matita solo che l'eyeliner in gel all'interno dell'occhio vi dura molto di più rispetto alla classica matita provare per credere adesso l'effetto è forse ancora più strano sempre lo stesso eyeliner me lo uso proprio come un eyeliner quindi me lo prendo con il mio pennellino e vado a fare una bella riga nera all'attaccatore delle ciglia perdonatemi mi avvicino allo specchio e ci vediamo tra un secondo mi sono un po' avvantaggiata ho applicato anche mascara e un paio di ciglia finte anche qui non sono obbligatorie se decidete di mettere soltanto il mascara andateci con una mano bella pesante perché dobbiamo creare una cornice nera che vada a definire l'occhio in mezzo a tutta questa serie di colori adesso terminiamo il make up con le labbra mi vado a mettere su tutte le labbra una matita rossa questa andrà a definire la mia forma e a creare una bella base per il rossetto rosso che è leggermente più chiaro e questo ragazzi è il nostro trucco terminato fatemi sapere con un pollice all'insù nei commenti se il video vi è piaciuto insomma lasciatemi un po' di amore fatemi sapere soprattutto se replicherete questo make up anzi se deciderete di farlo magari taggatemi sui vari social che mi fa tantissimo piacere ci tenevo anche a dirvi un'ultima cosa ovviamente tipo l'Italia sono italiana se dovessi vincere l'Italia sarò super super contenta ma ragazzi mi raccomando visto che settimana anzi qualche giorno fa quando l'Italia ha vinto con la Spagna c'è stato un po' troppo odio secondo me anche se l'Italia dovesse perdere non facciamo sì che questo sia un pretesto per odiare le altre persone è comunque una competizione sportiva e che vinca il migliore comunque spero che questo video vi abbia tenuto compagnia o in qualche modo vi sia utile vi mando un grandissimo bacio ci vediamo prestissimissimissimo nel prossimo video ciao ciao